Sì, sono in questa posizione, e stai bene due secondi per stabilizzarsi. E chi non ha ieri, non è in questa posizione. Chi non ha ieri, non è in questa posizione. Sì, è la stessa pratica. Sì, è la formazione del corpo. Up! Ehi! E pensare a come! Ehi! 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 Up! Ehi! 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 Extend the arm! Extend the arm! Come on! Going on in position! Far at high! Ehi! Elbow! Elbow should not Up! Up! Ehi! Up! 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 And turn! 180 degrees! Ehi! Invece nessuno gira neanche! Ehi! Up! Ehi! Ehi! up! Down! And sun! Ehi! Ilbow is looking this way! Now it's looking this way! Right now it's looking this way! 1 2 3 8 1 3 Verrà in una tecnologi 성pigliari. Ecc? Mano sinistra o piezo sinistro? Eppon lasso? potere indietro il piede e la piede a questo momento è il momento del Kokionage ce ne sono tanti di Kokionage c'è un po' di Kokionage oggi partiamo dal Kokionage ushiro-waza solitamente ushiro-waza 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 se non si riesce ma ushiro-waza 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 qui Quindi fare queste tre forme, questa è la forma di base, in questo modo non si riesce così, non è possibile in questo modo, portando indietro il bacino si riesce a questo punto, in questo modo c'è un indietro eccessivo di forza, quindi dice lui di impiegare, quindi dipende più fermamente Questa è la forma di base di avere potenza Il cocchio si fa per rinforzare il potenza, andando indietro non si può effettuare un effetto potente In questo modo non è possibile avere potenza, non ci si rinforza Mi portarsi indietro non va bene, non è producente L'aikido incomincia dalla posizione Aikido incomincia dalla posizione Sempre la posizione Non è giusta questa posizione di ammi, il bacino neanche non si muovono giustamente Quindi bisogna usare lo stesso ammi della mensole Per evitare di farsi male Per evitare di farsi male Il proprio bacino quasi a scontrarsi contro lo stomaco dell'avversario E' un'altra risulta Inizialmente Le portate le porte a scontrarsi La posizione di ammi Sì Le portate le porte a scontrarsi La posizione di ammi La posizione di ammi Questa è ammi Non si tratta Sinistra Non stassi Non stassi Non stassi In caso della posizione a sinistra si parte sulla mano sinistra. In caso della posizione a sinistra la posizione a sinistra. In caso della posizione a sinistra la posizione a sinistra la posizione a sinistra. In caso della posizione a sinistra la posizione a sinistra. In caso della 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 posizione a sinistra. vediamo in questa direzione vintamenti a tocco spazio non si riesce a vedere la tecnica bisogna stare avvicinati si entra se è volontario la mano sinistra 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 il fine di sinistro è appuntato ci sono due versioni nel caso di essere spinti e di essere dilati questa è la reazione giusta al movimento di spinta in caso di spinta in caso di spinta quando si concentra la potenza su chi si concentra su questa posizione dell'anca in caso di spinta in questo modo si riceve l'attacco in caso di spinta 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 E davanti un belitto? Ci sono molti che non verranno escire ma la quindi la parte della gamba la gamba è un posto e poi l'oste non è間違ata l'ambo è la parte di l'aglio l'estero è il sinistro Questa è il problema. App pose. Non è vero! Non si non è vero! Non si non si è vero! Non si è vero! Questa è la scuola. Questa è la scuola. Un po! Un po! Un po! Questa è il problema! Questa è la scuola! questo è un'altra parte Grazie. 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 Per esempio davanti a un ospite. Il Tempio. E il saluto si pratica in questo mondo. Il Tempio è un segno di attacca. E sia Senpai che sia il Sensei. Non bisogna fidarsi. Questo è il fondamento del pensiero del Fudo. Minchini modtala. Adesso... E il caso... Se ti sento... Se andremo a un riso. Non c'è il riso. Se andremo a un passato. Se andremo a un riso. Se andremo ad un paese. Per esempio, lascia cercare di attacca. Lo a andren. In fronte della mamma. Nel momento, si andremo a guarda. quindi si saluta in questo modo quindi il saluto il saluto in caso dell'attacco si fa guardando la messaggia se ti fai un errore guardando questa frase ci si fa ridere dietro ok riceve attacchi 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 bisogna alzare il keg e dal piede sinistro si parte a tagliare attacchi 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 essendo pericoloso si ritira indietro e poi si taglia questo che è scappato dall'avversario e quindi da attacchi 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 si ritira e risponde si ritira e risponde ok in questo modo se anche ci si tocca non c'è pericolo Anche se si toglie da lì, non c'è l'injurie. Le persone iniziano a iniziare a lavorare molto velocemente, quindi questo è un problema. Questa è una pratica da non fare. Questa è una pratica da non fare. La chiesa deve venire, deve essere salvato. Non vedete il movimento. Due secondi, aspettiamo. Quindi, la prossima. Anda non avanza. Anda non avanza. Andate in un modo molto, molto buona forma. E avanza, molto velocemente. E avanza. E avanza fortemente. E siediti forte. Cosa? Il Marsil. Il Marsil. Il Marsil. fermandosi si può rendersi conto del controllo effettivo e quindi creare una buona forma sulle anglie in questo modo è sufficiente per diventare molto bravo e in calabasco e in calabasco più si sente il rumore del bokken e meno sente efficacia questa è la forma che abbiamo fatto fino a qui è la stessa stesso movimento il prossimo è questo è una questione di vicinanza si deve avere la possibilità di lanciare e di non essere tagliati la voce si può meglio platicare quindi con time Lui alza lentamente, il Sensei deve fare la scuola con la scuola, quindi non può fare la scuola di sciomenuzzi e quindi colpisce su un'altra. Il Sensei deve prendere la scuola, il Sensei deve prendere la scuola, il Sensei deve prendere la scuola. Credo, è successivo. E volendo lui tagliare, passa per fianco. Adesso ha un pochino sulla testa. Allora, l'automatopo sta parassi in Italia. Quindi, quindi, sulla testa. In questo modo finisce. Ah no, in Italia non mi vuoi, non mi vuoi. In Italia non mi vuoi, non mi vuoi. Eh, sì. Ah, vedi di contare l'italiano, le prese come volete. L'italiano che mi sia, la prima cosa, il prese come volete a andare a fare. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Mi vuoi volete? Con la spentaà dite in Italia. Sii, sii, sì, sì. Sì, 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 sì. E, sì, 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 sì. Quindi divide il ponteggio in sei parti, insomma. Ah, chi non capisce si guarda intorno. Le varianze del comitaggio sono possibili dal primo comitaggio. Dal primo comitaggio sono possibili tutte le varianze. È possibile questa varianza. È possibile questa varianza. È possibile questa varianza. È possibile questa varianza? È possibile questa varianza? Non c'è il mio carico? È possibile questa varianza? è molto stile questa variante e allora questo questo è per il momento da una pagata lo faccio e si entra e lo faccio andiamo a darmi questo è questo questo è quello che ha fatto ora è qui questo è questo sono Ah! Sì, il senso è un po' di questo... ...dia voglio... ...dia... 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 ...dia no... ...dia... ...ca οh, oi... ...dia... ...dia, sектare il secondo ...dia... ...dyaola, so... ... router, tranquillamente... Bene il tempo. Conor. Ecco eh. Conor. Eh? Questo movimento. C'è non è possibile. Non è possibile. Alla. Lo. 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 è più finito ho finito il passaggio la sua storia si chiara con dolcezza un'arma si intende il movimento dell'arma Grazie. 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 . 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 Grazie a tutti. 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 But don't show the back to the video, just like this. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso, grazie a tutti. Il movimento di attenzione? Così no? Non è possibile. Deve essere sufficiente il movimento della faccina. E' essendo pericoloso con l'attenzione. Andare a colpire sull'esterno della versata. Sì, sulla stessa linea. Sì, sulla stessa linea. Non si combina niente. Voglio uscire qui. Iniziamo in questa direzione. Iniziamo in questa direzione. Iniziamo in questa direzione. E poi, in questo modo. E poi in questa direzione. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. sono me dai dai ne? io ho un giro un po' qui ha fatto ha fatto che fa 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 Stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa. Grazie. 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 Non siete verso le altre. Perché non stai giocando? Sto male. 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 C'è sempre insegnato di tagliare fino a... Taiglona. Taiglona. E anche dentro giusto si scende fino a basso. E anche dentro giusto si scende fino a basso. E questo. Apo. Sì. 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 Grazie. 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 So, the Ken group were transformed into a Taichitsu force? No, Keu to Kabukiwazao, so you can't do Aikido. Look, you take out the can, then there won't be any more Aikido. Senza Kabukiwazao and Ken, the Aikido, non exist. Right. But in Taichitsu, the Brake is like this. When Shiba is in Taichitsu, you have to have the idea with Ken. Quando si applica il Bukivasa bisogna sempre avere in mente il movimento del Tejutsu. Quando si applica il Bukivasa bisogna sempre pensare al Bukivasa? Ho sempre detto che è una cosa unica. Il Bukivasa è unico. Il Bukivasa è unico. Il Bukivasa è unico. Nel 1999, in gennaio, è morto il maestro Kishomaru. Kishomaru ha morto il figlio del fondatore. Nel Aikido Shimbun, il giornale dell'Aikido di gennaio. Il figlio del figlio del fondatore ha scritto qualcosa in commemorazione del padre. C'è scritto che il maestro Kishomaru, il figlio di Ueshiba, ha cambiato le tecniche nell'insegnamento. Questo articolo è scritto che Kishomaru, anche quando O-sensei era ancora vivo, ha cambiato tutte le tecniche nel suo stile. Non dico che sia una cosa cattiva, ma questo significa che nell'Aikikai non esiste la tecnica originale del fondatore. Nel Aikikai non c'è nulla più l'Aikido. Nel Aikikai non c'è nulla più l'Aikido. Se io sono 23 anni, è rimasto insieme al maestro per 23 anni e quindi mi sono fossilizzato sulle tecniche di O-sensei. Io non ho cambiato nessuna tecnica di O-sensei. E controllando sul libro, il cui dice che è pubblicato 61 anni fa, si vede bene che le tecniche sono identiche. E' giusto anche l'applicazione delle tecniche in modo morbido, però dopo un esercizio rigido della pratica. O-sensei ha sempre detto che l'Aikido deve essere una cosa potente. O-sensei ha sempre detto che l'Aikido deve essere forte, ma è forte. E' giusto che io sono iniziata? L'Aikido, mi sono iniziata? E' giusto, perché ci siamo iniziata? Ma è sempre la cosa potente fare l'Aikido. Ma sempre dopo l'Aikido, mi sono iniziata? e potessendo e come il focchio del Swahriwaza sulla stessa linea la realizzazione di pratica deve essere risolta in modo modo entratta rigida e realizzazione morbida con un angolazione particolare questa è la mia mano questa angolazione è rigida questo è facile se è un angolazione giusta per il movimento non funziona questa è l'angolazione giusta è perché non c'è un incontro di forze lungo questo braccio si mantiene questa linea e si entra all'interno dal di sotto nella stessa linea non è possibile questa posizione giusta questo si svolge solo con il movimento delle anche non è possibile non è possibile non è possibile Grazie a tutti I due bracci devono essere uno sotto l'altro, insieme no. Deve essere da di sotto. Dalla guardia a destra. Si cambia sulla sinistra. Per questo non c'è opposizione di forza. Questa è una forma fondamentale. Non c'è una forma fondamentale. Some teachers tell people that in Ibama there's no Kino Nangare. There's a lot in Ibama. C'è tantissimi. Morotu no ricocchio o Kino Nangare. Up! This is Morotu no ricocchio o Kino Nangare. Morotu no ricocchio o Kino Nangare. Up! Forse è la mia? Ho. Ho. Questa di dire si ho. 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 Ne? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi... In questo modo... e... ... 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 Grazie. Grazie.